È davvero utile camminare 10.000 passi al giorno? Ciò di cui siamo certi è che tenerci in moto e camminare un buon numero di passi giornaliero ci garantisce diversi benefici. Il miglioramento dell'umore o ancora il miglioramento del funzionamento dell'apparato cardiovascolare e ancora va a rinforzare quella che è la nostra struttura muscolo-scheletrica. Quindi i benefici di camminare in buon quantitativo durante le nostre giornate sicuramente sono tantissimi. Ma quello che voglio dirti in questo video è che concentrarti sul numero 10.000 passi è un grosso errore. Piuttosto il tuo focus deve essere quello di capire e sapere quanti passi fai oggi, sapere se sono giusti per te.